Antonio Montuoro, consigliere regionale alla Regione Calabria, siamo qui alla mezzaterme per questo incontro con dei fratelli d'Italia e la presenza anche del sottosegretario Vandaferro e dell'onorevole Antonio Ossi. Sì, oggi siamo qui alla mezzaterme, stiamo facendo diverse iniziative sul territorio proprio per spiegare quelle che sono le principali riforme sulle quali sta lavorando il governo Meloni. Parliamo principalmente oggi di premierato, di autonomia, di tutte quelle riforme importanti che stanno cambiando l'Italia per come il partito si era prefissato quando ha iniziato a governare la nazione in perfetta sinergia con quella che è l'azione che stiamo portando avanti come governo regionale. C'è una sinergia e una collaborazione importante che sta portando dei frutti, che sta portando importanti risultati per il nostro territorio. Continueremo a lavorare in sinergia ma soprattutto continueremo a lavorare sui territori a informare i cittadini su quelle che sono le iniziative che stiamo portando avanti come partito. Grazie. 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 Grazie.